Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna, e sulle teste sette diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva, Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.